In arrivo dall'amministrazione regionale fondi per 600.000 euro da destinare a 167 famiglie che vivono in condizioni di estremo disagio economico, bilanci in perdita da 4 anni all'azienda moliseacqua e i dipendenti temono per il loro futuro occupazionale, i comuni molisani non versano il dovuto. Primo passo ufficiale del comune di Montenero di Bisaccia per ottenere sul litorale adriatico l'istituzione della riserva naturale foce del fiume Trigno. In molte realtà delle due province, aule e laboratori scolastici non sono a norma, scelte programmatiche errate e verifiche tardive in diverse situazioni. Un cordiale saluto dalla redazione. Contrasto alla povertà, la regione molise ha erogato la somma di 600.000 euro agli ambiti territoriali sociali destinati a 167 famiglie in condizioni di particolare indigenza economica. I destinatari potranno beneficiare per un anno di 300 euro mensili, quale sostegno ad alleviare le ristrettezze economiche e a tentare di limitare il divario sociale. I dipendenti della Moliseacque sono preoccupati della situazione economica e amministrativa in cui versa lente. La parte finanziaria crea i drammi più forti tra i lavoratori in quanto dal 2013 ad oggi i bilanci sono in perdita per oltre 10 milioni. Le motivazioni dei bilanci in rosso sono probabilmente causate dalla mancata riscossione dei ruoli idrici dei comuni da parte di cittadini che non versano il corrispettivo. La stessa preoccupazione è stata manifestata dai lavoratori precari che da oltre 10 anni prestano servizio alla Moliseacque. Il personale ha intanto proclamato lo stato di agitazione. Via libera all'istituzione della riserva naturale foce del fiume Trigno. Il comune di Montenero di Bisaccia ha messo in atto il primo passo ufficiale e tesso a preservare il paesaggio sull'Adriatico. Gli amministratori del comune di Montenero di Bisaccia hanno proposto l'istituzione di una riserva naturale denominata foce del fiume Trigno, una iniziativa condivisa dalle associazioni ambientaliste che nasce dall'esigenza di tutelare e valorizzare un sito di interesse comunitario per l'importanza degli habitat naturali e specie presenti, tanto da essere oggetto importante di studi ornitologici sulle rotte migratorie dei volatili. L'attenzione alla sostenibilità ambientale deve essere un caposaldo dell'azione amministrativa. Da sottolineare il buon andamento della raccolta differenziata, aumentata del 4%, è la fattiva collaborazione con la protezione civile, volta a favorire la tutela dell'ambiente naturale e la salute delle persone. L'iter burocratico passa adesso alla Regione Molise, con il piano particolareggiato della riserva, conclude l'assessore Simona Contucci, il Comune di Montenero potrà accedere in futuro anche a finanziamenti europei che consentiranno di riqualificare e preservare il paesaggio naturale, consentendo l'attivazione di turismo rispettoso dell'ambiente e a misura d'uomo. La Regione ha approvato le misure di accompagnamento straordinarie per le diverse situazioni occupazionali che si registrano nel Molise. La concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga sarà accordata per un ulteriore periodo di tre mesi, nel caso i destinatari abbiano già beneficiato dell'integrazione prevista dalla cassa integrazione nel corso di quest'anno e per un periodo di sei mesi nel caso di richiesta di prima concessione. E torniamo a parlare del mondo scolastico, tutta da risolvere la grana dei doppi turni alla scuola elementare Don Milani di Campobasso. Le soluzioni proposte da Palazzo San Giorgio non convincono le famiglie. Genitori e bambini della Don Milani di Campobasso insieme per un momento di aggregazione per continuare a dire no alla decisione dell'amministrazione comunale di smembrare la scuola di Via Leopardi trasferendo 15 classi nella sede di Via Gorizia, considerata comunque non sicura, a sottolinearlo proprio uno dei genitori. Più che altro è un'iniziativa per stare insieme, per dare un momento di tranquillità a questi ragazzi e comunque stanno attraversando un momento difficile della loro vita scolastica e della loro vita familiare. Per cui era un momento per ridare gioia a questi ragazzi e comunque esprimere il nostro dissenso per le scelte dell'amministrazione, almeno le scelte che ad oggi hanno comunicato. Cercheremo di manifestare e di dimostrare il nostro dissenso attraverso manifestazioni di piazza e cercando di avere un dialogo con l'amministrazione sempre che ci venga consentito questo dialogo, perché ad oggi il dialogo non c'è stato, c'è stata una decisione unilaterale da parte dell'amministrazione senza condivisione delle scelte. Tant'è vero che la scelta di mandarci probabilmente a Via Gorizia non è condivisa né da noi genitori né dalla scuola che verrebbe frammentata con una serie di classi distribuite in un plesso e altre classi in un altro plesso e altre ancora che rimarrebbero qui alla Petrone. Noi non facciamo proposte sulle scelte, noi vogliamo che ci venga data una scuola che sia adeguata in termini sismici, cioè non vogliamo uscire da una scuola che è quella della Don Milani che non è adeguata sismicamente ed entrare in un altro plesso, in un altro edificio non è adeguato sismicamente, così come è quello di Via Gorizia, perché le carte questo dicono. E intanto i genitori della scuola Don Milani esprimono delusione per la scelta del sindaco Battista di voler trasferire gli alunni nella scuola di Via Gorizia. Sono infatti contrari perché tale edificio è stato costruito 20 anni prima della Don Milani che dopo i lavori non ancora iniziati del secondo intervento raggiungerà una resistenza all'accelerazione da collasso pari a poco meno il 51% di quella prevista dalle norme. La soluzione alle troppe emergenze che riguardano l'edilizia scolastica ha bisogno di un confronto aperto a tutte le componenti e della presenza dei vertici dell'ufficio scolastico regionale. Vediamo. La CGL chiede da tempo alla classe politica di intervenire in maniera adeguata sulle criticità presenti nel sistema di istruzione della regione. La mancata programmazione sull'edilizia scolastica ha come risvolto immediato da settimana il caos. Siamo infatti di fronte ad una continua emergenza che si sta affrontando con strumenti inadeguati. Studenti, docenti e personale tecnico devono poter operare in aule sicure. Il sindacato condanna la situazione emergenziale in cui versa l'edilizia scolastica in molte realtà molisane. A Campobasso in particolare centinaia di alunni sono stati costretti nell'ultimo anno ai doppi turni con frequenza delle lezioni in orari serali dagli effetti devastanti sotto il piano pedagogico e delle relazioni sociali. La giunta comunale fino ad ora non ha trovato adeguate soluzioni al problema prefigurando spostamenti a catena da un edificio all'altro oppure annunciando l'utilizzo di stabili da riadattare senza certezza sui tempi. Anche la CGL boccia quindi la scelta di collocare gli alunni della scuola primaria Don Milani nei locali dell'istituto Dovidio di Via Gorizia, una scelta che non risolve il problema nell'immediato, considerati i tempi di consegna dei locali e l'impossibilità di dare risposte a tutti gli alunni e determina criticità anche per il futuro. La federazione chiede quindi ai vertici della prefettura di adoperarsi per verificare altre soluzioni praticabili per uscire dall'emergenza, convocando assieme tutte le parti interessate e che veda la presenza dell'ufficio scolastico regionale. L'Assemblea dei Sindaci della provincia di Iserni ha esaminato il piano di dimensionamento scolastico a partire dal prossimo mese di settembre e ha confermato quello in vigore quest'anno. Due istituti superiori del capoluogo Pentro, il Cuoco Manuppella e il Liceo Maiorana Fascitelli, hanno chiesto l'istituzione del Liceo musicale sotto la supervisione del Conservatorio Perosi di Campobasso. Analoghe richieste erano pervenute dal Liceo Classico di Venafro e dall'Istituto Comprensivo di Frosolone. L'allargamento dell'offerta formativa può attrarre una fetta di popolazione studentesca, oggi ridotta in provincia a meno di 10.000 alunni, dei quali poco più di 3.000 iscritti nelle scuole superiori. Cambiamo ancora argomento, dopo il referendum sulla Costituzione sono molte le aspettative per una politica che diventi portatrice sana di un futuro positivo per l'intero Paese. Sono davvero numerose le persone che dopo il voto al referendum consultivo sulla Costituzione si sarebbero aspettate cambiamenti sostanziali nella politica italiana, rimanendo un po' deluse per quelle che vedono come semplici sostituzioni di uomini nei ruoli chiave del Governo nazionale nelle istituzioni, senza quelle sterzate verso lo sviluppo delle tutele della gente e l'attenzione ai beni comuni. Intanto, continuando nell'opera di registrare le opinioni a riguardo da parte dei politici e dei cittadini molisani, ascoltiamo l'ex consigliere regionale Italo Di Sabato, oggi responsabile nazionale dell'Osservatorio sulla Repressione. Per fortuna è stata bloccata la riforma costituzionale che aveva proposto il Governo Renzi. Dall'altro lato credo che i comitati per il no, tutti coloro che si sono impegnati in questa campagna referentaria, devono necessariamente fare un passo in avanti, un passo in attacco direi io, nel senso che non basta semplicemente rivendicare l'applicazione della Costituzione ma serve necessariamente una riforma in avanti della Costituzione che sappia oggi leggere quello che si muove all'interno di una società sempre più precarizzata, sempre più impoverita, in una società in cui la politica non sa dare più delle risposte sostanziali a quelle che sono le difficoltà che i cittadini vivono. Ed ecco perché io credo che al di là del voto anche politico che il referendum ha espresso perché oltre all'aver rigettato la riforma è stato un voto politico contro il Governo Renzi e contro quello che questa politica ha espresso. Io credo che ci sia un dato fondamentale. Oggi nessun governo presente in questo Paese e anche in Europa rompe con le politiche di austerity che sono le cause poi delle sofferenze sociali di milioni di cittadini che vivono il continente Europa. Quindi io credo che è necessario oggi porre al centro l'attenzione o che le forze politiche sociali che si sono impegnate intorno al referendum mettono in campo anche una proposta di alternativa di società, un'alternativa di società che sappia rompere con le politiche di austerity, di neoliberismo e sappia mettere in campo un'alternativa vera o altrimenti siamo nel gioco delle tre carte. Il presidio Vietri di Larino diventa ospedale di comunità al Santimoteo e solo un ramo del Lab del Cardarelli. I provvedimenti del commissario Paolo Frattura confermano che il Basso Molise esce ridimensionato rispetto alla nuova mappa sanitaria. La denuncia del Capogruppo del Partito Democratico alla Regione Francesco Totaro a far da padrone gli ospedali dei due capoluoghi e quello di Agnone e cinque strutture private Villa Maria e Fondazione Giovanni Paolo II a Campobasso, Villa Esther a Boiano, la Gea Medica di Isernia, il Neuromed a Pozzilli. In funzione della riconversione al Vietri e al Santissimo Rosario di Venafro vi saranno solo ricoveri temporanei. Un vademecum contro gli sprechi alimentari e fai conti anche sulle spese per le feste di Natale, dati che raccontano di una spesa media di 205 euro, il 7% in meno rispetto al 2015. Come sempre l'ADOC, l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, in occasione degli eventi festivi come il Natale e il Capodanno, pubblica uno specifico vademecum che tende ad informare i cittadini, comunque sempre più attenti, sui percorsi ottimali di consumo muovendo contro gli ingenti sprechi alimentari. Nel far questo, i suoi esperti hanno tentato una previsione sulle spese complessive, quantificando con una riduzione del 7% rispetto allo scorso anno gli acquisti da parte delle famiglie italiane. Una scelta, affermano dall'ADOC, legata alla necessità di risparmiare, ma anche a una nuova sensibilità alimentare. Difatti la tendenza sarà quella di ridurre la quantità, puntando però sulla qualità dei prodotti e sul recupero dei piatti poveri della tradizione locale. Si stima una crescita di almeno il 20% dei consumi dei prodotti regionali e dei territori, ma anche di quelli di produzione biologica. Inoltre, affermano che oltre la metà dei prodotti che imbandiranno le tavole saranno di origine italiana. Dal punto di vista economico, la spesa media per ogni commensale sarà tra i 18 e i 23 euro, per cui in una tavolata di 10 persone si spenderanno in media circa 205 euro. Tutto questo sembrerebbe suggerire che per preparare un adeguato cenone di Natale non serve spendere una cifra eccessiva. Intanto i conti parlano anche dei ringari di alcuni prodotti tipici della tradizione natalizia, con il panettone che registra un aumento di prezzo del 4,3%, seguito dai mandarini con il 4%, il pandoro con il 3,3%, il cotechino vede un ringaro del 3%, con infine il torrone che costa 1,2% in più. Ringari, afferma l'ADOC, comunque contenuti che non vanno a pesare eccessivamente sui bilanci familiari. Passiamo alla cronaca. Nelle campagne di Montenero, Tavenne e Petacciato, gli agenti del corpo forestale hanno riscontrato diversi abusi. In agro di Tavenna sono state individuate due strutture abusive prive delle concessioni. Nel comune di Petacciato invece sono stati denunciati titolari di due ditte responsabili di abbandono di rifiuti. In località Padula di Montenero, di Bisaccia, il titolare di un'impresa vastese è stato deferito per smaltimento illecito di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali. Il Comitato dei lavoratori cantonieri della provincia di Isernia ha deciso di protestare con il Presidente Coia per la scelta di non voler rinnovare le loro assunzioni. Saranno presenti nel giorno di Natale in un sit-in davanti alla Cattedrale di Isernia per poi spostarsi davanti l'abitazione del Presidente Lorenzo Coia. Questa sera a Trivento si è svolto il tradizionale scambio di doni e di auguri alla Fondazione Sant'Antonio di Padova di Via Capuccini. Canti, giochi e tanta allegria per un giorno di festa tra gli ospiti della Casa di Riposo. Abbiamo organizzato questo evento non come fondazione, è stata la Proloco ad inserire questo evento per scambiare gli auguri con i nonnini della nostra casa e a questo proposito devo ringraziare la Proloco per aver inserito nel cartellone delle feste natalizie l'evento di oggi presso la nostra fondazione. Alla fine di questa manifestazione abbiamo scambiato con i nonni e con alcune persone che ci danno una mano all'interno di questa fondazione dei doni. Abbiamo ritenuto come fondazione fare una targa, ricordo, sia per l'associazione Paceo Conlus che ogni martedì è presente per sollevare un po' gli animi dei nonnini con la loro allegria e una targa all'amico Attilio Fierro che giornalmente viene a trovare i nonnini e passa con loro più di un'ora. Quali gli ospici per il prossimo anno? Noi stiamo avendo veramente un grosso riscontro dal mercato, chiamiamolo così, perché abbiamo molte richieste e purtroppo a molti dobbiamo dire di no perché la struttura non ci consente di avere posti in più. Spero che con la nuova autorizzazione che il Comune ci dovrà rilasciare ci aumenti anche i posti in modo tale da poter soddisfare più esigenze. A questo proposito devo dire che è sempre un nostro obiettivo costruire una nuova ala con almeno 30 posti letto. Una volta che abbiamo realizzato la vendita è sempre quasi agli sgoccioli dell'appartamento che abbiamo avuto in eredità dalla signora Noemi Florio a Roma. Rompi! Diventa operativa d'Agnone la Fondazione Atene del Sannio, punto di riferimento dell'amministrazione del sindaco Marco Vecchio per la valorizzazione del turismo, tradizioni artistiche e arte orafa. Franco Paolo Antonio è il presidente della Fondazione, nata lo scorso anno. All'Arino invece è stato rinnovato per tutto il prossimo anno il protocollo d'intesa tra la direzione regionale del Molise e l'amministrazione comunale per assicurare alla cittadina frentana l'apertura dello sportello decentrato delle entrate. La puntata della trasmissione Focus sulla nostra rete ospita alcuni consiglieri dell'Associazione Demetra che si occupa di riconoscere e valorizzare i prodotti della cultura enogastronomica locale. Una nuova associazione Demetra che nasce per dare una spinta propulsiva attraverso la collaborazione di numerosi piccoli e medi imprenditori del comparto enogastronomico molisano affinché ci sia nei cittadini la consapevolezza di avvicinarsi alle produzioni locali con la giusta attenzione e nel compito di scegliere al meglio e sostenere i percorsi di qualità e rilanciando il settore. Di questo e tanto altro si parla nel nostro Focus la trasmissione in onda questa sera della redazione giornalistica di TLT Molise con ospiti tre consiglieri dell'Associazione Dionisio Cofelice, Fabio Nebbia e Gabriele Coccagno. Abbiamo bisogno della consapevolezza del molisano innanzitutto, cioè non possiamo andare a conquistare mercati fuori se poi il nostro molisano un po' ci disprezza o depreciano questi prodotti. Spesso mi capita di andare in aziende agrituristiche dove si propone il prodotto che viene da fuori. Allora il nostro piatto tipico molisano è pizza in minestra e noi dobbiamo farcene vando che ci piacciono. No, no, questo è l'unico piatto veramente molisano, uno dei pochi piatti molisani e quindi dobbiamo cominciare ad esserne orgogliosi. Dobbiamo innanzitutto noi molisani apprezzare, divulgare quello che abbiamo, quello che la nostra terra ci ha offerto da anni. Noi qui in Molise abbiamo una biodiversità enorme, anche dovuta all'isolamento di alcuni paesi che per anni hanno conservato determinate usanze, determinati prodotti, storia, cultura, non hanno avuto possibilità di dialogare, per cui abbiamo ancora determinate cose da valorizzare, ma dobbiamo essere noi innanzitutto ad accettare. Dopo viene il discorso politico, perché la politica non fa altro che rappresentare il nostro territorio. Se noi cittadini siamo consapevoli delle nostre ricchezze e le valorizziamo, poi ci sarà il settore politico che ci darà una mano, però dipende dal basso. Quindi esorto a tutti i miei corregionali a darsi uno scatto di orgoglio e a valorizzare quello che è il nostro territorio. Dalla retorica dell'unificazione alle stragi compiute in nome dell'Unità d'Italia, dall'emigrazione all'eterna incompiuta Salerno-Reggio Calabria e la storia del sud riletta da Pino Aprile, giornalista e scrittore meridionale, è stato questa sera ospite della Proloco a Frosolone con due delle sue opere più discusse, Terroni e Carnefici. Il gruppo musicale Sunrise si è esibito questa sera a Piazzetta Palombo a Campobasso. Il gruppo musicale è composto da ragazze e ragazzi molisani che si esibiscono per raccogliere offerte da destinare alla solidarietà. L'Associazione Amici del Borgo Vecchio di Termoli aprirà domani pomeriggio al Castello Svevo della città Adriatica, la diciottesima mostra dei presepi artistici. La mostra al Maniero resterà aperta fino al 6 gennaio. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo prevalentemente solleggiato oggi sul Molise, poco nuvoloso dalla sera. Le temperature sono comprese tra la minima di 4 gradi a Campobasso e la massima di 12 a Termoli. Ventilazione variabile, adriatico centrale poco mosso. Domani mattina sulla regione il cielo si presenterà parzialmente coperto. Valori climatici stazionari, venti settentrionali. Siamo allo sport, iniziamo dal nuoto. La società Molisana Idrosporta Riccione in Romagna in occasione dei campionati assoluti invernali Open in Vasca Olimpica con Cristiano Iantoglu nei 50 metri d'orso ha fatto registrare al cronometro il tempo di 27 secondi e 17 decimi. Siamo al calcio dal mese di gennaio. Nella Serie D gli addetti a lavori si preparano ad affrontare un torneo diverso sotto molti punti di vista. Che tipo di giro è questo F della Serie D rispetto agli altri anni? Io posso parlare rispetto all'anno scorso, mi sembra un girone abbastanza equilibrato, probabilmente con qualche squadra più forte rispetto all'anno scorso. L'anno scorso forse c'era la Samenetese che ha fatto il vuoto, quindi non c'era più partita diciamo ad un certo punto. Quest'anno invece ci sono cinque squadre che secondo me possono ambire a vincere il campionato tranquillamente. Cosa significa nel girone di ritorno per molte squadre aver cambiato 4-5 elementi nella rosa? Sarà un altro tipo di campionato? Lo è sempre stato un altro tipo di campionato dal mese di gennaio in poi. Noi ecco perché abbiamo cercato anche noi di rinforzarci sapendo che non dovevamo assolutamente pensare di aver già raggiunto il nostro obiettivo e crediamo che con i giocatori che abbiamo a disposizione in questo momento possiamo dire senz'altro la nostra, anche contro quelle squadre che probabilmente sulla carta ci sono superiori. Lei ama restare con i piedi per terra, a fine anno cosa prevede? Fine stagione agonistica? Noi siamo partiti con l'obiettivo di salvarci, è chiaro che il primo obiettivo è sempre quello però credo che possiamo fare anche qualcosina in più, non parlo di play-off o altri posti perché sono almeno 5 le squadre che ci sono nettamente superiori. La San Maurese è una gran bella squadra, infatti si sta facendo avanti, noi siamo stati bravi e fortunati a vincere in trasferta al girone d'andata. Adesso come abbiamo detto prima è un campionato nuovo che inizia da gennaio e vediamo quello di cui siamo capaci di fare. Sono andati via in attacco Vitelli e di Federico, è arrivato solo come prima punta ragazzo, ci sarà qualche altro movimento? Credo di no, abbiamo preso ragazzo, oltre a ragazzo abbiamo preso anche Margarita, quindi andando via due ne abbiamo presi due, la nostra politica è quella, quello che avevamo speso prima, siamo rimasti su quelle cifre, quindi siamo a posto in questo modo qua. Un augurio ai tifosi agnonesi affinché sostengano la squadra anche nel prossimo anno agonistico e nella prossima stagione. Sì, auguri a tutti di un buon Natale, ma non soltanto agnonesi, a tutti i telespettatori, a tutti noi, alle vostre famiglie, tanti auguri di un buon Natale e soprattutto di un buon anno. Ancora calcio, a Boiano circa 200 ragazze sono state le protagoniste della seconda tappa del Girls Football Open Day, l'iniziativa ideata dalla FIGC per promuovere il calcio giovanile femminile in tutto il territorio nazionale. Hanno preso parte ai giochi le alunne delle scuole medie di Trivento, Petrella, Cerce Maggiore, Ripalimosani e ovviamente Boiano. Per il 2016 si chiude in regione il percorso di promozione e sensibilizzazione finalizzato alla crescita del movimento calcistico femminile. Con questa notizia è veramente tutto, grazie per l'attenzione. Vi lasciamo alla nostra programmazione. Grazie a tutti.